Venerdì 4 novembre 2011, buona giornata e benvenuti a questa edizione di Contatto. Allora, subito i fatti della giornata, all'indomani della partecipazione di Berlusconi al G20, dove ha portato il documento, dove ha fatto delle promesse che di fatto stanno producendo un'ulteriore diaspora di parlamentari che lo hanno sempre sostenuto, hanno sempre votato le sue leggi vergogna che oggi praticamente fanno un po' da volta gabbana e adesso li vedremo nel dettaglio chi sono questi che si sono uniti, intanto io vorrei velocemente dare proprio uno sguardo ad alcuni giornali inglesi che danno visibilità all'evento al G20 di Cannes e dunque in questo caso l'Independent scrive Eurocaus, la Britannia si prepara al peggio con la foto di Berlusconi alle sue spalle, Cameron con un'espressione decisamente poco rassicurante e poi c'è una foto di una protestante, poi il quartetto senza Berlusconi che vede Sarkozy, Merkel, Obama e Cameron di lato e poi in primo piano Georg Papandreu che è il premier greco che secondo il quale dopo gli allarmi presunti sul referendum che avrebbe lanciato affinché voleva chiedere ai greci volete insomma in qualche modo rimanere nell'euro e quindi affrontare i sacrifici per uscire dalla crisi o no? A fronte ovviamente di un no e quindi di un'autodeterminazione nazionale degli stessi greci che avrebbero detto fanculo l'euro, scusate il termine, torniamo alla dracma, allora a fronte di questo spettro che avrebbe accelerato quindi e creato il pericolo di contagio del fallimento dell'euro, Papandreu ha detto no, non farò più questo referendum, me ne frego di quello che dicono i greci, rimango sotto il ricatto dei banchieri, rimango nell'euro, e quindi in questo caso spero di poter dare un contributo affinché l'euro possa rimanere e quindi non crollare, però rimane l'incognita di come la Grecia dovrà in qualche modo recuperare questo debito che rimane sia un sesto rispetto all'Italia ma perché per le dimensioni della Grecia e per la sua economia rimane un debito insostenibile sempre peggiore, dunque dovranno essere i banchieri, questa massoneria, questa oligarchia che dovrà un attimino rivedere le regole in qualche modo qualcuno dovrà smenarci, qualche creditore dovrà in qualche modo azzerare o comunque non pretendere più nulla dalla Grecia perché anche quando hai comprato l'aeroporto, hai comprato il Pireo, hai comprato tutta la Grecia, alla fine se non hai recuperato quello che ti spetta dovrai in qualche modo accontentarti. Questo per quanto riguarda l'independent ma la foto più bella, secondo me la pubblica il Daily Delegraph con questo Berlusconi nella giornata del G20 mentre tutti i vari leader vengono fotografati con atteggiamenti seri, quindi in atteggiamento istituzionale, Berlusconi viene sbeffeggiato in prima pagina su uno dei più importanti quotidiani inglesi con questo atteggiamento che guarda questa femmina, chiamiamola così, con questo modo mentre si aggiusta la cravatta come dire mo ci provo che tanto io so figo e tutto questo la dice lunga sulla sconsiderazione che ha il Presidente del Consiglio all'estero. Poi il Guardian dice un giorno di caos i leader per quanto riguarda la Grecia si rendono conto che questa la Grecia può lasciare l'Euro, quindi il titolo dice tutto, le espressioni dei leader anche e perciò rimane questa incognita sulla Grecia, Papa Andreu è infatti sulla prima pagina anche dell'International Herald Tribune, Greek Leader Cancel Referendum, Papa Andreu in questo caso dice, annuncia che non farà il referendum, questo per rassicurare i mercati, tant'è che i mercati hanno risposto con borse che schizzano, scrivevano le testate italiane ieri in serata, però insomma venendo ai quotidiani italiani, dunque il fatto quotidiano dice maggioranza addio, il PDL frana, prima i sei frondisti che chiedono a Berlusconi di dimettersi, ora altri due deputati lasciano il gruppo e passano all'Udc, il governo sotto quota 314, arriva la stampella radicale, si chiede il quotidiano di Padellaro, c'è anche un'intervista all'interno a Rita Bernardini che è una delle deputate dei radicali, poi c'è l'editoriale di Travaglio, noi stiamo col Cainano e dunque dice va bene tutto, però insomma è assurdo che oggi questi straquadagno che viene chiamato squadagno qua qua, in qualche modo dopo aver difeso Berlusconi adesso fai volta Gabbana, insomma c'è una bella faccia per questi deputati che in qualche modo dopo aver sostenuto le leggi vergogna in qualche modo voltano le spalle al Premier e dunque questa è la sua analisi, però poi conosceremo meglio chi sono questi deputati che di fatto lasciano la maggioranza e passano all'Udc e poi tutta un'analisi con il Totò e Peppino al G20, ironia all'arrivo del Premier di Tremonti, al vertice Sarkozy che fa l'Italia, chissà c'è Berlusconi e questa foto ritrae Obama sulla destra, la Merkel, Obama e Merkel che fanno cenni di sorrisi come se si stessero scambiando delle battute, Sarkozy che sente e cerca di trattenere appunto in questo caso il sorriso in questa istantanea e a sinistra Berlusconi che cerca di inserirsi come uno sfighè in questo trio che però insomma a quanto pare non lo considera assolutamente visto che Berlusconi ricordiamo non è sfuggito alla Merkel la battuta sulla culona inchiavabile che sui giornali non solo italiani ha fatto capolino per dei giorni. Democratici di piazza e di governo domani manifestazioni a Roma mentre si tesse la tela per Monti, dunque la foto di Casini e Bersani insomma si insiste su una possibile alleanza dopo che sono stati ricevuti da Napolitano, a quanto pare l'intenzione è quella di allargare una maggioranza, di rifare una sorta di governo tecnico, di fatto non un governo riconosciuto dagli italiani e per dare un premierato a Gianni Letta che ricordiamo è l'Andreotti, è il Vaticano in doppio petto attuale che nessuno sa come parla, nessuno sa come la pensi, è molto silenzioso come cuccia, come mangano e quindi non sappiamo chi è Letta, chi è, che premier sarà Gianni Letta, però a quanto pare piace anche a Casini che conta un 3-4% ma che però pare essere determinante visto che molti ex socialisti o comunque berluscoidi vanno con l'Udc e l'Udc siccome è ufficialmente all'opposizione ma tendenzialmente è di centrodestra e allora si gioca un po' su questa ambiguità, su questa promiscuità del partito di Casini ma quello che conta sono i programmi, al di là poi delle ideologie politiche, siamo in una situazione in cui bisogna prendere provvedimenti seri e insomma applicarli e a quanto pare ci sono delle promesse che forse potrebbero dare adito, promesse ma ci vuole tempo ora che saranno approvate promesse che dovrebbero dare adito all'economia. E poi cosa c'è da vedere un po' sulla, ah c'è un paginone dedicato al servizio pubblico, il programma di Santoro, prima puntata del nuovo programma e la nostra rivoluzione democratica e pacifica, l'esordio sulla multipiattaforma tv web e radio in onda la rivolta del telecomando, non si sa ancora in questo primo mattino quanti siano stati i telespettatori della prima puntata di servizio pubblico che io non ho visto tra l'altro e dunque poi c'è un'intervista a due presunte partecipanti dei Bunga Bunga che sarebbero state invitate insomma a prendere parte al gioco erotico, una è Chiara Danese che si fa intervistare dal fatto e dice giovane modella di una cena elegante, non sapevo chi vivesse in quella villa di Chiara, Fede Emilio ci disse che ci avrebbe aiutato e poi Berlusconi ci toccava il culo, Ambra mi ha chiesto dobbiamo darla nei sotterranei del Bunga Bunga, queste le dichiarazioni prese a caldo dalla foto si evince che siano state fermate fuori dal tribunale di Milano e poi questa notizia insomma delle prove di stato di polizia a Roma, studenti schedati a scuola, cariche contro chi tenta di violare il li vieto di manifestare, questa è una norma sicuramente anticostituzionale, non c'è dubbio che insomma siano prove tecniche di guerre urbane e quindi la polizia sia espressamente incaricata di spegnere ogni forma di dissenso perché potrebbe questo portare a danni urbani, anche ai morti, effettivamente quando si perde il controllo e se una delegazione di giovani, possono essere 100, 1000, 10.000 non vengono contenuti, la casta avverte questo pericolo e quindi va contrastata in qualche modo, questo non accade solo in Italia, accade anche all'estero perché se volete vedere le immagini di piazza Sintagma ad Atene è la stessa cosa, ci sono i greci che sono disperati e che vanno in piazza, che presidiano il Parlamento e davanti al Parlamento, ci sono ovviamente le forze dell'ordine greche che difendono i palazzi, questo per quanto riguarda il fatto quotidiano, venendo invece al Corriere della Sera, ricordo che comunque è un quotidiano letto anche all'estero, oggi apre con la maggioranza per dei pezzi, due deputati passano all'Udc, Berlusconi fiducia sulle misure, tensione nel centro-destra, annunci di altre defezioni, il PDL, se cadiamo si va al voto. L'editoriale di Antonio Polito, qui una terra sconosciuta, le incognite del dopo Cavaliere, dice che fa capire di non credere molto alla triade Bersani di Pietro Vendola, benché a vasto la città, facciamo una sorta di unione in maniera vasta, abbracciamoci tutti, componiamo un gruppo in modo tale da poter ottenere una possibile maggioranza per un nuovo governo, insomma Polito non crede molto in questa alternativa della sinistra attuale e chiude dicendo che la crisi ha cambiato anche la sinistra, altre volte nel corso di questa tormentata seconda Repubblica si sapeva con che cosa si sostituiva Berlusconi, stavolta si ha l'impressione di avventurarsi in una terra sconosciuta e anche se il cammino è obbligato perché dietro di noi è rimasto solo il deserto, ciò non di meno bisogna riconoscere che per ora stiamo camminando al buio, bisogna poi capire se i riferimenti di Polito siano alla commerciabilità della faccia del Premier o se invece si riferisca ai contenuti, si riferisca agli obiettivi di questi leader e che effettivamente siamo tutti in attesa di capire se questi tre leader hanno lo stesso programma. Onoreremo gli impegni che abbiamo preso, pagina 2, Berlusconi prova a rassicurare i partner, la ricchezza delle famiglie è un multiplo del debito e al momento in cui parlo, mattina presto, il Corriere Online, che non posso mostrarvi in quanto qui non ho la connessione, scrive espressamente che la maggioranza andrà verificata, però insomma dice che in qualche modo la maggioranza tiene, che è il contrario di quello che scrive il fatto online e dice Berlusconi non ha più la maggioranza, quindi questa posizione è sempre molto ambigua del Corriere e da interpretare da parte del fatto perché bisogna vedere se la maggioranza non c'è più, visto che a quanto pare i radicali vogliono continuare a dare sostegno alla maggioranza. Chi sono questi nuovi transfughi che mollano il PDL non sosterranno più Berlusconi? Una è la di Polito, una donna del PDL che rilascia un'intervista al Corriere a pagina 9, però a dire il vero troviamo dichiarazioni anche su Repubblica, il PDL è frutto di una fusione a freddo, persi i fondamentali del 1994 e risponde sostanzialmente che il PDL ha perso questi fondamentali del progetto iniziale, la fusione a freddo tra Forza Italia e Alleanza Nazionale non ha funzionato, è stata una sindesi troppo accelerata di due culture diverse, tra loro poi sono entrati tanti singoli portatori di interessi propri, certamente non obiettivi, dice la di Polito per motivare la sua fuoriuscita, cerca di scaricare le colpe su Aenne quando anche Aenne lei si è unita al gruppo di quelli che attaccavano Fini l'anno scorso quando insomma al congresso disse che fai mi cacci, che poi tutto questo provocò l'attacco immotivato sulla casa di Monte Carlo su cui tutta un'estate intera i giornali lavorarono cercando di screditare la figura di Fini per poi venire a capo di nulla perché la Fini era un appartamento che usava il cognato di secondo letto di Fini per il quale pagava un regolare affitto, non sono emersi conflitti di interessi, non sono emersi dei papocchi come invece sono emersi a carico di Berlusconi con le 64 offshore e quindi insomma intanto si è dedicata un'estate per sputtanare Fini, benché Fini abbia le sue colpe di aver sostenuto questa politica berlusconiana che ha di fatto rovinato l'Italia del tutto. E poi c'è una lettera, ho creduto nel Premier ma il progetto è fallito, ora grande coalizione e dunque una lettera che parte col caro direttore di Alessio Bondiani che è l'altro deputato che ha dichiarato di lasciare Berlusconi per passare all'Ubc e dice nell'interesse del paese faccio questa scelta sofferta ma libera e consapevole. Non si capisce cosa c'è dietro questa decisione, anche quella di Paniz, di lasciare Berlusconi appunto si rendono conto solo ora che è arrivato il momento di lasciarlo, forse perché sanno che è in caduta libera di popolarità, sanno quanto è sputtanato, insomma mai sui giornali hanno pubblicato di tutto e di più e altro pubblicheranno, insomma è diventato davvero indifendibile anche per questi zimbelli che di fatto lo hanno retto e oggi hanno il coraggio di cambiare faccia e non so quale risposta avranno dall'elettorato e se avranno chance per essere rieletti nell'Udc che è l'unione dei condannati o dei carcerati o se preferite più gentilmente dei centristi. E qui c'è anche un altro schemino che ripercorre le ultime defezioni durante questa legislatura, si parte dagli ex finiani con la foto dell'ex ministro Ronchi che ha passato al gruppo misto assieme a Pippo Scalia, che però nonostante siano finiti nel gruppo misto finora hanno sostenuto e quindi hanno votato tutta la fiducia, poi neocentristi ci sono le immagini di questi deputati che sono poi, a parte la calabrese Ida di Polito, la vediamo in piccolo, il toscano Alessio Bonciani di cui abbiamo visto la lettera poco fa, ma tra i centristi si detiene che lo smottamento dei parlamentari PDL sia destinato ad aumentare, quindi si attendono altri parlamentari, altre quaglie che andranno dal PDL all'Udc, si riduce il gruppo degli ex responsabili per quanto riguarda i sudisti, in tre hanno abbandonato popolo e territorio per andare nel misto, sono Arturo Iannacone, eletto nel Movimento per l'Autonomia e quello di Lombardo in Sicilia, Americo Porfidia, ex Italia dei Valori e il sottosegretario all'Ambiente, Elio Belcastro, già MPA, l'obiettivo è costituire il gruppo Lega Sud Ausonia, ma ieri hanno assicurato fedeltà al governo. E poi gli astenuti, col governo che ha già dovuto rinunciare il 14 ottobre data dell'ultima fiducia ai voti di tre deputati, sono Santo Versace che è qui sotto, come sapete ha rilasciato un'intervista dichiarando di uscire dal PDL, anche lui però non si capisce cosa abbia fatto in questi anni, non si sia reso conto del conflitto di interessi, poi Calogero Mannino e Luciano Sardelli, quest'ultimo avrebbe preparato un documento di dissenso da presentare con Vincenzo Scotti, Antonio Milo e appunto un ulteriore sostegno che motiva questa uscita, Mannino eletto nell'Udc, poi è passato al PID per sostenere il governo e ora nel gruppo misto sembra ormai avere preso le distanze dalla maggioranza e il suo voto non pare recuperabile. Questo per quanto riguarda la situazione attuale nel caos della maggioranza. E poi c'è sempre il solito Verdini, il massone, quello indagato, quello che usava quanto parla la sua banca per farsi i loschi affari con carboni, per transitare targenti, per avere i soldi dai imprenditori di Forlì affinché potessero concorrere alle gare finte farlocche per poter avere appalti in Sardegna, mettere le paleoliche là dove non servono, l'importante è motivare una spesa e quindi lucrarci su, indagato anche nell'ambito del, quindi questa banca usata come crocevia, una sorta di piccolo Vaticano dove far passare i soldi sporchi o le tangenti, insomma per cercare di, questo è il tema del coinvolgimento di Verdini, insomma Verdini che è padrino di Forza Italia in Toscana, è colui che poi va a caccia, in qualche modo cerca di comprarsi, cerca i modi, farà delle offerte, insomma ai vari transfughi per cercare di garantirsi la maggioranza. Caccia ai transfughi, Verdini in prima linea, se falliamo, elezioni, urne possibili, già il 29 di gennaio, si legge oggi sempre sul Corriere a pagina 10 e poi più avanti un'intervista ovviamente a Casini, è chiaro l'Udc è ormai diventato il partito dell'Italia, governo di larga intesa, il PDL di Cassio si dissolverà, Casini lavoro a un contenitore per laici e cattolici, una sorta di lavanderia insomma dove poter prendere tutti dai santi alle puttane per che cosa? Per andare da Napolitano e per dire sì a Letta, per fare un governo di cosa di preti? Non si capisce, però insomma staremo un po' a vedere, perché poi sono i contenuti che contano e la credibilità anche internazionale, ma sono poi i provvedimenti che fanno la differenza. Il Corriere oggi scrive anche tante misure poca crescita e quindi fa una sorta di analisi sui vari effetti che il pacchetto dovrà produrre, i nuovi incentivi per l'apprendistato valgono 25 mila ingressi in più secondo questa analisi, ingressi nel mondo del lavoro si intende, aliquota del 28% è la doppia beffa per le partite IVA e qui si dice qual è il ragionamento che sta dietro a questo paradosso sociale? Il governo pensa di rendere meno vantaggioso per i datori di lavoro il ricorso al lavoro flessibile e quindi aumento agli oneri, peccato che questo presupposto non si sia mai verificato, già da diversi anni la contribuzione sale, ma in parallelo è cresciuto anche il ricorso ai parasubordinati e alle partite IVA monocommittenti, i datori di lavoro tendono a scaricare sui co-co-co l'aumento contributivo e di conseguenza la logica della deterrenza va a farsi benedire. E poi servizi pubblici locali e ordini professionali non è mai troppo tardi, dunque entro 12 mesi è prevista la liberalizzazione di molte categorie professionali e quindi tra un anno è prevista anche la riforma degli ordini professionali che include sicuramente anche i giornalisti e poi con la nuova mobilità degli statali si riapre il test col sindacato e il miracolo dell'export che serve solo per andare dai talk show. Qui leggiamo un 14,2% l'aumento dell'export previsto italiano da gennaio ad agosto, anzi che è stato da gennaio ad agosto di quest'anno, quindi dati rassicuranti secondo la versione di questo giornale. Poi anche il Corriere dedica una pagina a Santoro che apre il servizio pubblico la nostra rivoluzione pacifica e una critica di Aldo Grasso che peraltro è ripresa come civetta in prima pagina, in fondo si legge il ritorno di Santoro moderno a ritmo lento e scrive Santoro è tornato con servizio pubblico e ha dimostrato che si può fare tv al di fuori dei grandi network, il medium è il messaggio, diceva qualcuno. e poi continua appunto la sua analisi, qui internamente a pagina 18 e scrive è tornato con passo lento e solenne, deciso a durare, vecchio nella struttura il celebrante di una messa laica, lo definisce ma nuovo nella distribuzione, multipiattaforma là dove tv web e radio allegramente convergono, 100.000 persone hanno acceso le luci di stasera, 100.000 persone hanno versato 10 euro di sottoscrizione per il progetto, più il supporto ideologico ed economico del fatto, più la rete di tv locali di Sandro Parenzo e ieri sera Michele Santoro, faccio fatica perché i caratteri sono piccoli, ha dimostrato che si può fare tv al di fuori dei grandi network, il medium è il messaggio, diceva qualcuno, Santoro è sempre Santoro, in Rai come su Sky o su Telenorba, è fazioso, populista, presuntuoso, dice Grasso, ma la televisione la sa fare, ragion per cui il Rai avrebbe fatto bene a tenerselo, l'incognita espulsione e il costringerlo a ruolo del reietto lo hanno caricato ancora di più, così nel nome di Biace Montanelli, suffragata da poteri paranormali, è iniziata la piccola rivoluzione civile pacifica delle tv italiane. Lo studio 13 in città di Roma richiama la piazza di Rai per una notte e soprattutto tutti in piedi, niente tavolo con schermo, quindi un racconto breve di come è stato allestito lo studio, poi dice Gli ospiti sono di lusso, da Paolo Mieli a Diego della Valle e poi da De Magistris a Franco Bechis, un agnellino nella Fossa dei Leoni, da Stella e Rizzo, da un programma così, i La Vitola, gli Scilipoti, gli Scaiola escono stritolati, ma forse si sono già stritolati da soli, almeno per i fan di Santoro, oggi controlleremo gli ascolti e poi dice, fa anche una critica a Travaglio che lo definisce un po' troppo lungo del suo intervento che gli fa perdere di efficacia, un intervento in cui parlato della casta, torno a ripetere non ho visto il programma e quindi dice alla fine che il programma è a tutti gli effetti un appuntamento del giovedì, in genere i talk politici riparano agli errori degli altri scambiando i medesimi con una loro verità, perciò per ora la rivoluzione può attendere e ovviamente qui, nominandogli Scilipoti e La Vitola, visto che a quanto pare La Vitola è stato intervistato, andrebbe capito come hanno fatto a contattarlo, dove, aspettiamo il magistrato, l'ingroio di turno che vada lì, prenda per il collo Santoro e dica, rivela il tuo segreto professionale, dove hai beccato La Vitola? Chi ti ha dato il tramine, il cellulare, dov'è? Dove hai organizzato il set per fargli l'intervista? E questa cosa sarebbe già dovuta succedere con Mentana, tempo fa. Ma vabbè, siamo in Italia e qui no, visto che è latitante, tutti lo cercano, allora se siamo un paese farlocco, lo sono anche quelli che lo intervistano, oppure magari se hanno interesse alla nazione anche questo tipo di giornalismo magari fornisce dettagli affinché La Vitola possa essere beccato e portato in Italia. Un'analisi di Stella e Rizzo sugli sprechi italiani inviati, regioni ecco chi spende di più, quindi continuano la loro analisi sugli sprechi della regione Lombardia, poi bisogna capire sprechi o comunque costi. Ora, rispettiamo tutti, ma Stella e Rizzo chi li paga? Il Corriere. Il Corriere chi lo finanzia? Quali sono i fondi che il Corriere dispone, questi milioni all'anno come Repubblica, come altri giornali che vanno in edicola? Ok, hanno alle spalle editori forti, ma ci sono anche molti milioni di fondi pubblici, coerenza insomma, lascia un pochino desiderare anche se comunque Stella e Rizzo fanno un lavoro ben fatto. E poi, velocemente, nelle pagine milanesi del Corriere c'è questa notizia dei fondi da Roma, arrivano 700 milioni alla regione Lombardia, il Fondo per lo sviluppo e la coesione è stato sbloccato ieri dal governo, sbloccato non vuol dire che poi questi soldi arriveranno, li hanno sbloccati, poi come fa il Cipe, dice autorizza questa opera, la brebemmia la autorizziamo, brebemmia poi è capitale quanto pare privato, autorizziamo quell'altra opera, va bene, quanto ci vuole un miliardo di Euro, bene, l'autorizziamo, bisogna capire, poi l'autorizzazione è una cosa, i soldi sono un'altra, i FAS quanto pare invece saranno sul piatto, gli interventi sono previsti nei settori viario, ferroviario e metropolitano, nel trasporto pubblico locale con l'acquisto di 22 nuovi treni per la sicurezza idraulica, la qualità delle acque, per l'estensione a più comuni del numero unico di emergenza a livello europeo, la Lombardia è stata la prima impegnata in Italia su questo fronte e la riqualificazione dei quartieri urbani degradati, interventi di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza nell'area Expo 2015, bisogna poi vedere se questi soldi annunciati servono a Formigoni per apparire sui giornali e per essere spinto come possibile al prossimo candidato premier o se invece questi soldi arriveranno davvero e a quel punto potremmo davvero contare, la Lombardia è il motore dell'economia, quindi se le infrastrutture funzionano è meglio che avere difficoltà, andrebbero fatte le infrastrutture dappertutto e ce ne sono anche in altre parti d'Italia, però insomma in Lombardia è importante che ci siano perché appunto qui serve, bisogna funzionare, non ci si può fermare, bloccare la città per due centimetri di neve, cioè bisogna che se nevichi si possa continuare, questo è un esempio, visto che è il motore dell'Italia, questo sistema impazzito di economia che deve produrre, bisogna andare avanti, bisogna anche mettere in condizioni che le strutture funzionino e i soldi servono per farsi e per diminuire le possibilità che non ci si blocchi. L'Iffia Pomodoro, presidente del Tribunale di Milano, bandi flop dei giudici? Milano, un'eccellenza ma è cara, perché dovete sapere che in questi giorni c'è il balletto delle poltrone tra i vari procuratori e le varie procure italiane e si diceva che a Milano nessun magistrato vuole andare, ci sono anche lì dei posti vacanti e a quanto pare a Milano mancano anche infermieri perché con 1200 euro al mese a Milano campi due settimane, forse, se paghi l'affitto neanche quelle, quindi questo per dire che è vero quello che dice la Pomodoro, evidentemente i giudici sono troppo poco pagati perché per stare a Milano bisogna prendere di più e allora non vengono qui perché qui non potrebbero vivere, esattamente come accade per gli infermieri e per altre categorie professionali, alcune delle quali fanno parte di quella schiera di italiani che hanno allungato e che allungano ogni giorno la fila la Caritas, in piazza Tricolore a Milano c'è la Caritas, andate lì a vedere che fine ci sono tutti i giorni di italiani ex manager, quarantenni, magari divorziati, che magari anche lavorano spesso ma non hanno abbastanza soldi per mangiare e vanno lì a mangiare gratis, quindi onde evitare vedere anche dei giudici o dei PM che pur di accontentarsi di essere a Milano prendono così poco da dover andare alla Caritas a mangiare e la Pomodoro prova appunto a giustificarli e dice non vengono giudici a Milano proprio perché qui la vita costa troppo e la Livia Pomodoro mi fa anche riflettere, poi chiudere velocemente questa puntata per il fatto che il balletto delle poltrone riguarda i procuratori e quindi Ferrara a Roma non si capisce, Pignatone a Reggio Calabria pare candidato a Roma ma qualcuno vorrebbe metterlo a Napoli, qualcuno del CSM perché è il Consiglio Superiore della Magistratura che decide questi incarichi, mi rifaccio alla puntata di ieri in cui ho parlato di Bari, di Tarantini, vi ricordate, che era indagato due anni fa e per cui pare che Poletti avesse fatto la passacarta e la vittola per capire che stato erano le indagini su Berlusconi. Due anni fa a Bari c'era già l'audati procuratore e c'era già anche il famoso Scelsi, il PM che ha fatto questa relazione per il CSM in cui denunciava pressioni da parte di laudati, secondo il quale laudati avrebbe cercato di frenare queste indagini su Berlusconi di Scelsi che riguardavano Tarantini e quindi Berlusconi e quindi anche la vitola. Laudati indagato a Lecce per questa vicenda, procuratore indagato, non sappiamo se davvero c'è qualcosa dietro, però a volte io dico che i magistrati non si possono sempre difendere tut court, vanno selezionati. Le correnti sono un danno per i magistrati e molti procuratori ahimè rappresentano chi magistratura democratica, chi magistratura indipendente, chi il centro-destra, chi il centro-sinistra. Ecco questa lottizzazione dei magistrati, altri magistrati, è un cancro alla credibilità loro, che dovrebbero essere carati della Costituzione, essere apolitici, apartitici e lavorare solo in funzione nell'interesse della loro procura. Se sotto di loro ci sono PM liberi come erano dei magistris, Forleo che è finita a Cremona occuparsi di liti di condominio, Chelsea che adesso fa questa relazione in cui dice e denuncia il suo procuratore di averlo osteggiato e molti altri, Lanuzzi, poi c'era quelli di Salerno che hanno indagato Catanzaro, insomma ci sono molti magistrati non iscritti a Correnti che spesso, Woodcock è un altro, che insomma cercano di lavorare e hanno questo attacco e scopriamo oggi dall'indagine che alcuni altri magistrati sarebbero in combutta con la vitola, con la P3, con la P4, ecco, questo è grave, allora abituiamoci a valutare le persone anche in magistratura al di là del fatto che siano magistrati, perché ahimè se anche in magistratura abbiamo delle mele marce, questo è molto grave e allora questo paese è davvero da rifondare e allora hanno ragione quelli che poi criticano la giustizia e io francamente quando appunto sento sempre difendere a priori i magistrati a prescindere, come spesso fa certa stampa di sinistra, anche Marco Travaglio, io non mi trovo d'accordo anche in virtù dell'esperienza mia, personale, che molti di voi conoscono, dove una sentenza di bassa, secondo me bassa, macelleria massonica mi ha costretto a dare 16 mila Euro per una definizione su internet, una critica che io ritengo ancora legittima, un rimborso sproporzionato del quale ringrazio ancora la rete che mi ha dato una mano e mi sta dando una mano, quando invece abbiamo grandi personaggi che per insulti molto peggiori, su TV anche nazionali, risarciscono cifre praticamente non proporzionali a quelle che per esempio mi hanno riguardato, questo per dire che purtroppo le sentenze e spesso anche i giudici sono anche un attimino da valutare e anche qui dovremmo poi intavolare un discorso che va al di là, alla fine chi è potente spesso la fa franca, quindi il potente viene anche un po' difeso secondo me anche dal giudice, questo è in sintesi quello che diceva anche Travaglio sulla corte di Palermo che ha giudicato Dell'Utri, è stata molto benevola dare solo 7 anni in appello, bene allora si è stata molto benevola di che qualità sono questi giudici. Chiudo qui questa puntata, non prima di aver velocemente guardato, no, siamo già troppo in là, Repubblica la vedremo domani, buona giornata, grazie per essere stati con noi, speriamo bene, vi farò sapere se avrò novità altre per domani che sarà sabato, grazie, a presto. Grazie.